Il Comune ha pubblicato i dati riguardanti l'utilizzo della casetta per l'erogazione dell'acqua potabile, a un anno dalla sua installazione. Complessivamente in un anno, sono stati erogati 53.137 litri di acqua, il picco massimo di distribuzione, è stato raggiunto nel mese di luglio con 6.389 litri. Attraverso il consuntivo reso noto dal Comune, è possibile che alla casetta dell'acqua di Lungavilla, sono state riempite 35.424 bottiglie e che in questo modo si è evitato di smaltire rifiuti di plastica PET per un totale di 1.417 kg. Attraverso la mancata produzione di bottiglie di plastica, poi, sono stati risparmiati 8.608 kg di greggio, e non sono stati emessi nell'aria 5.324 kg di anidride carbonica.